di questo nuovo incarico e poi ha proseguito sempre con l'indagine quella legata al mare, legata a Bari, chi l'ha letta lo sa, però ci tenevo a partire proprio da quella pagina di Marenevo in cui è riassunto in poche pagine tutto quanto il libro di cui stiamo parlando ora. Tutte le stazioni si assomigliano tra loro, almeno in Italia. Quando un paio di mesi fa, con le reni crepate dalle otto ore di viaggio, scesi dal frecciargento delle 19.07, mi sembrò quasi di essere tornata a Bari e il cuore fece un balzo fino alla vola. Invece niente, ero arrivata a Padova, nella mia nuova sede. Padova, sì, perché da qualche mese sono diventata questore. Questore lo Bosco Lolita, e chi lo avrebbe detto mai? Nessuno, credo, manco mia madre. Forse neanch'io, e poi è accaduto. Una promozione per meriti speciali, come ha dichiarato il Presidente della Repubblica, perché che sono brava si sa, è l'amore a farmi difetto.